perfetto, ora però vogliamo anche andare a fare in modo che se io clicco uno di questi tag, vedete carica i dati, però mi piacerebbe che intanto venisse evidenziato il tag che sto guardando e poi mi piacerebbe che qui, come vi dicevo prima, se ci devo lavorare preferisco avere nel path, mi venisse messo ad esempio il tag che sto visualizzando anche perché magari se questa pagina va a finire a un motore di ricerca è utile avere un path parlante in modo tale che posso poi ricaricarlo come facciamo? ritorniamo sul nostro house on page e qui andiamo a definire un altro route, in questo momento lo faremo soltanto su global feed, su your feed non credo che avremo il tempo di farlo quindi nuovo path ad esempio tag barra due punti tag che significa il due punti tag? significa che nel path avrò qualcosa del tipo tag barra ad esempio eos questo s sarà un parametro che il nostro global feed component dovrà prendere quindi come facciamo? quindi se adesso vi metto così, vedete? carica la pagina, come? la carica così lasciamo perdere per il momento il popular tags, facciamo global tag eos andiamo a vedere come prenderci questo parametro che sarebbe il due punti tag come facciamo? andiamo nel global feed qui iniettiamo l'activity the route out uguale a inject activity the route ora nell'ng on init anzi facciamolo proprio nel costruttore mostrator che facciamo? facciamo vis.activatedroute.snapshot punto tra i vari parametri che ci mette a disposizione il team di angola c'è params in params ho tutti i dati che vengono definiti come parametri in questo modo quindi ad esempio qui mettiamo tag vediamo se è vero facciamo un console log in questo momento magari facciamo così mettiamo un tag ci mettiamo la stampa del parametro e andiamo a vedere se è vero eccolo qua vedete? tag os eccolo qui quindi va a leggere se ovviamente qui cambio metodo tag 1 tag undefined quindi il due punti tag serve proprio per identificare un parametro che ci aspettiamo poi in input ok? quindi qui adesso abbiamo il tag ora qui su get article avevamo il filter by tag no? quindi che possiamo fare? possiamo prendere questa stringa passarla qui salvare e a questo punto vedete che si sono filtrati se adesso io qui metto test vedrò tutti quelli che hanno il tag test ah non abbiamo messo il tag test andiamo a vedere magari di metterlo dovrebbe esserci sul post preview andiamo a mettercelo così magari vediamo anche i tag vediamo 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 l'avevamo tolto? l'avevamo tolto andiamo a metterlo magari sotto la data facciamo un altro span vediamo un attimino come come salta fuori quindi facciamo un bel ciclo for tag of article punto diciamo che l'intellisense di track by dollar index track sì non è questo qui tag list ok tag list è un array di string in tag ce l'abbiamo perfetto quindi questo lo mettiamo fuori anzi lo mettiamo proprio dentro così creiamo tanti span e qui ci mettiamo il tag andiamo a vedere vabbè non è proprio il massimo magari facciamo così mx3 vediamo ecco test eos ma serve a noi tanto per capire quindi se adesso metto eos vediamo tutti quanti gli articoli con eos col tag eos e ora dobbiamo attivare qui questo popular text quindi ritorniamo nella nostra home page eccolo qui e nella lista di tag avevamo questo filter by tag se vi ricordate qui andavamo a prendere gli article qui ma in realtà non ci servirà più ritorniamo qui e al posto di questo click facciamo un bel router link che cosa barra barra global barra tag barra e qui ci dobbiamo mettere il tag più tag andiamo a vedere se funziona metto test vedete cambia il path mi filtra faccio s e no che non filtra e qui vedete sembra non funzionare vedete perché e qui è la differenza dell'usare lo snapshot andiamo qui vedete qui qui stiamo usando lo snapshot lo snapshot vi ho detto che prende l'informazione soltanto la prima volta qui però sto cambiando la pagina facciamo una cosa ecco vedete qui non ricrea la pagina qui non ricrea non scrive questo facciamo così constructor constructor tag adesso io salvo lo stamperà la prima volta eccolo qua ma se cambio ok non cambia non ricrea il componente e non cambia perché perché lo snapshot prende la situazione nel momento nell'istante in cui lo vado a 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 ma quando io cambio il path angular non va a ricaricare o a ricreare il componente tiene sempre lo stesso cambia soltanto diciamo il path e se voglio essere sensibile sul cambiamento dei tag invece di usare snapshot devo togliere via snapshot devo usare params che se andate a vedere è un observable ok quindi per andare a prenderci il tag questo è un'altra in questo momento facciamolo molto più semplice qui definiamo una variabile tag due punti string uguale null ok quindi rendiamola opzionale qui ci mettiamo tag vis.tag eh sì ok facciamo così undefined così abbiamo risalto problema magari se ci metto undefined ok qui dice non è assegnabile oh erano vabbè avevo 50% di probabilità di beccarlo quindi se adesso io salvo così ovviamente non è sensibile al tag che facciamo facciamo vis.activate the route params questo è un'observable quindi e facciamo facciamo il pipe e facciamolo a subscribe qui avremo tag result quindi avremo il nostro anzi no non abbiamo il tag result avremo il params params ok e qui potrò dire vis.tag uguale a params i tag quindi andiamo a vedere se è vero vedete ha caricato cosit ipsum test e non funziona giusto non funziona perché perché dobbiamo andare a ricaricare gli articoli quindi separiamo separiamo facciamo una formatazione ok separiamo qui caricamento facciamo private load articles magari private ok questo il corpo di questo metodo lo mettiamo qui qui usa il tag quello che viene anzi facciamo così togliamolo via perché non mi piace proprio così quindi qui ci passiamo il tag string pipe null qui mettiamo tag quindi vis.load articles di null e qui faremo vis.load target articles di params tag andiamo a vedere se funziona che mi dice qui auto interceptor dato in errore facciamo reload facciamo un clear facciamo reload vabbè ogni tanto va in errore il back end ok filtraiamo per y per sit per os vedete facendo così è sensibile il cambiamento del parametro che viene passato dentro tag ovviamente anche qui voglio fare in modo che sia evidenziato il tag che sto visualizzando quindi andiamo qui e qui route link active mettiamo sopra la classe active andiamo a vedere ovviamente qui dovremmo definire il colore quindi e questo qui è un tag list l'abbiamo definito sugli size quindi nel tag list sembra che l'avessimo definito no l'abbiamo definito solo un page si mi sa che l'abbiamo definito sul page no l'abbiamo definito il tag list tag list andiamo a vedere dove l'abbiamo definito non avevamo definito il tag list ah label label pill ok l'abbiamo definito sul label pill andiamo a vedere eccolo qui l'abbiamo definito in size mi ricordavo bene qui ci andiamo aggiungere un altro selettore and punto active e facciamo un apply ibg slate magari 800 andiamo a vedere eccolo qua vedete carino con poche semplici righe di codice abbiamo fatto l'avidizzazione del tag se vado su your feed si resetta se vado su global feed ripremo test ovviamente qui farei un take until destroyed bis punto destroyer f perché nel caso in cui vado nella home voglio distruggere il sottoscrittore ma in realtà comunque sia non farei così come farei andrei magari a vabbè non lo facciamo dai lasciamo perdere possiamo ottimizzare senza avere la load articles ok cancelliamo un attimino questa load articles possiamo ottimizzare il codice facendo usando rxgs qui è un observable ok e potremmo metterci anche lo spinner vabbè in questo momento non ci importa abbiamo i params possiamo fare una switch map quindi qui abbiamo i params e gli diciamo vis.articleservice.getarticles di cosa? di params tag salviamo questo è il risultato e no così facciamolo fatto bene next dei punti risultato risultato eccoli e così abbiamo in un'unica riga praticamente qui possiamo cancellare possiamo cancellare mi sembra un po' più conciso no? ovviamente l'implement lo togliamo abbiamo semplificato il nostro codice ecco qua e abbiamo il nostro tag filter vado su your feed funziona vado su global funziona e con un esteri e qui quante sono una decina neanche abbiamo fatto anche filter tag